L'UnicStar, le uniche pagliette antibatteriche in commercio prodotte anche per i marchi più importanti sia nazionali che internazionali. Bentrovati al meteo. Si mantiene stabile il tempo sabato 23 dicembre. Gli ultimi aggiornamenti poi ci dicono che sarà così anche durante il Natale e la vigilia. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto sole ovunque con qualche foschia in mattinata in pianura ma in rapido dissolvimento. Cielo poco nuvoloso a seguire. Sulle Dolomiti alcune nevicate a tratti. Le temperature saranno in lieve aumento, minime tra 1 e 4 gradi, massime sui 9-12 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso non mancherà il sole ovunque. Il cielo si presenterà sereno solo con qualche addensamento specie verso le zone costiere. Temperature minime tra 1 e 5 gradi, massime sui 7-13 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige dove il sole sarà prevalente specie sui settori meridionali, qualche nube altrove. Temperature minime intorno allo zero o di poco inferiori, massime sui 12-13 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci.